bene amici benvenuti al secondo appuntamento con i video di speedy tech io e alex the architect abbiamo pensato di realizzare questi brevi video di circa un minuto per raccontarvi un po le caratteristiche di alcuni oggetti e accessori che noi utilizziamo costantemente durante la nostra attività nel video precedente alex vi ha raccontato del manfrotto mclamp in questo video io invece vi voglio parlare di questo case per hard disk esterni della aukey che mi ha veramente colpito e soddisfatto vediamolo un po più nel dettaglio il case esterno di aukey è un prodotto economico semplice ed intuitivo realizzato in plastica permette di inserire un hard disk ssd o meccanico da 2,5 pollici per poterlo utilizzare come supporto esterno collegandolo con la comoda presa usb 3.0 ad un portatile o ad un pc il case esterno di aukey è venduto su amazon al prezzo di 11 euro e 99 ed è il prodotto più semplice economico e funzionale che potrete trovare per ridar vita ad un vecchio hard disk inutilizzato grazie a tutti Grazie a tutti.